Eccoci qua Ottoliner, benvenuti, oggi puntata speciale di Mondocina registrata per incastrarci, questi che scappano all'estero eccetera, come D'Azibau, questi che rimangano in Italia ma fanno ste vite misteriose, poi subiscono attacchi hacker, non si sensano, quindi insomma tutte storie parecchio losche, parecchio piene di incognite eccetera, in cui ci infiliamo, ma questa settimana è stata una settimana piuttosto intensa dal punto di vista abbastanza generale, le intensità ormai non sono più fasi noiose della storia, quella fase lunga di tranquillità e dominio incontrastato dell'Occidente per cui si dormiva tranquilli, il problema era insomma fa qualche rivendicazione salariale eccetera, è finito e ora diciamo siamo in una fase piuttosto concitata della storia e però sempre diciamo l'elefante nella stanza che poi le crona che si portano via continuano ad essere i rapporti dell'Occidente globale, degli Stati Uniti e dei suoi vassalli con la Cina e ne sono successe diverse questa settimana, questa settimana anzi barra le ultime due perché poi l'ultima settimana era saltata la diretta con Davide e quindi diciamo abbiamo parecchie cose da affrontare, c'è stato il viaggio della Yellen in Cina dove appunto questa nuova narrazione che fa acqua un po' da tutte le parti sulla overcapacity, la sovraccapacità cinese che è un problema perché la Cina comunque per quanto noi gli si voglia bene è una potenza diciamo mercantilista, quindi diciamo il problema della armonizzazione dei rapporti con gli altri paesi che vogliono produrre più di quanto consumano come ad esempio la Germania ovviamente è consistente e sarebbe una cosa da gestire insomma in maniera intelligente e adeguata, tant'è che poi appunto l'altro aspetto è stato Scholz che è andato in Cina e anche lì diciamo è un po' capire un attimo il disallineamento tra l'impero e i suoi vassalli, tra il centro dell'impero e i suoi vassalli su come gestire le relazioni economiche e commerciali con la Cina, nel frattempo c'è stato anche questo episodio buffo perché appunto con l'uscita dell'Italia dalla Belt and Road, dalla nuova Via della Seta comunque a parole doveva essere rilanciato questo organismo diciamo che si chiama appunto la commissione economica mista che appunto è un meccanismo di dialogo tra l'Italia e la Cina che ha avuto un suo appuntamento l'11 e il 12 aprile a Verona con la presenza di italiani, con la presenza del ministro del commercio cinese Wang, quindi insomma un'iniziativa di alto profilo di cui però sostanzialmente stranamente non si è detta assolutamente un cazzo, quindi non si riesce a capire esattamente, insomma è una domanda che ci facciamo sin dall'insediamento di questo governo perché da un lato appunto c'era questa posizione vocale, esteriore, no? Anticinese, tronchiamo, tronchiamo, però poi più volte sono arrivati segnali che in realtà sottotraccia, insomma le relazioni non erano così tese o comunque non c'era una chiusura totale al dialogo, però appunto erano segnali che poi vai a sapere te, insomma io non sono in grado, non ho gli strumenti di confermare o meno, comunque c'è sempre stata un po' questa ambiguità che mi sembra riguardi un po' tutti, quindi sembra un pochino che il quadro sia quello di dover all'apparenza in qualche modo assolutamente completamente senza distinzione allinearsi alla strategia USA di decoupling, suona anche di puttanate, no? Di proprio di fake news come questa dell'overcapacity perché questa impostata come è stata impostata dalla Yellen è proprio una fake news, sono proprio notizie false, oggettivamente false, infondate e dall'altro però sottotraccia, insomma, in qualche modo come dire, ma io di questa solidità, è un po' il tema che abbiamo affrontato spesso negli ultimi pipponi, questa solidità dell'impero invincibile che vincerà la partita per cui basta andare dietro e dire sì all'impero senza mettere le mani avanti, in qualche modo ci salverà e sarà la nostra ancora di salvezza, penso incominci a emergere un po' di perplessità su questa cosa qua e quindi sottotraccia in qualche modo, sotto o sovratraccia, insomma, capire un attimo la dinamica tra quello che sappiamo e quello che invece succede e non sappiamo, di continuare a avere un rapporto cordiale, tra virgolette, con la più grande, di gran lunga, la più grande potenza manifatturiera del pianeta, insomma, aumenta, insomma, questo disallineamento tra la narrazione e i fatti concreti che succedono aumenta. Nel frattempo, è cosa che abbiamo affrontato molto spesso, più volte nei pipponi la scorsa settimana, gli Stati Uniti appunto, nonostante siano impelagati in Ucraina, nonostante la situazione in Medio Oriente sia sostanzialmente abbastanza fuori controllo, eccetera, si sono principalmente concentrati nella costruire, continuare a costruire questa rete di alleanze a livello, di alleanze, alleanze, insomma, è un eufemismo, questa rete di vassallaggio, in qualche modo, con i partner del Pacifico, c'è stata appunto il bilaterale Stati Uniti e Giappone con la visita di Kishida a Washington, a cui poi è seguito il trilaterale, il primo in assoluto della storia tra Stati Uniti, Giappone e Filippine, che è, diciamo, una cosa come abbiamo appunto descritto dettagliatamente, una cosa assolutamente importante e strategica, perché da un certo punto di vista, diciamo, il Giappone è l'alleato più strategico che gli Stati Uniti hanno, perché, diciamo, garantisce quella base industriale per un'eventuale guerra, sia commerciale che poi può eventualmente diventare qualcosa di molto più cinetico, insomma, la base industriale che gli Stati Uniti non hanno più e stanno cercando di ricostruire, invece il Giappone tutt'oggi ha, nonostante 30 anni, diciamo, di stagnazione economica, per appunto poter anche solo pensare in qualche modo di poter contrastare il gigante cinese e poi appunto il ruolo delle Filippine che è la portaerei dell'impero nel Pacifico, un po' come l'Italia è la porta aerei dell'impero nel Mediterraneo e quindi si sono incrociate tutte queste cose e quindi ora Micheto era per me importante, sono contento che ci sia Francesco con noi oggi, perché insomma era importante un po' confrontarmi, perché io parto un po' per la mia tangente, però a volte insomma Francesco mi ha spesso aiutato a rimettere in fila i tasselli, insomma non viaggia un po' troppo di fantasia, cosa che ogni tanto mi capita, quindi per questa occasione straordinaria invece che partire da Davide partirei proprio da Francesco, mettiamo un po' in fila queste cose qua e cerchiamo di capire cosa ne possiamo dedurre. Ok, intanto ciao a tutti. Allora io partirei dall'Italia, perché questa cosa è abbastanza indicativa e misteriosa, nel senso che appunto l'Italia era uscita dalla Belt and Road e il governo ha cercato di equilibrare questa mossa con l'idea che comunque si sarebbe rilanciata questo progetto che poi vent'anni fa fu ideato da Berlusconi della costituzione di una, diciamo così, di un dialogo intergovernativo basato sulla commissione economica mista. E soprattutto questa commissione economica mista che si è tenuta la settimana scorsa a Verona, in pratica è stata completamente oscurata dai media e dallo stesso governo, basti pensare al fatto che praticamente di quello che ha detto il governo italiano, lì rappresentato da Tagliani, c'è stata questa famosa butad che Tagliani ripete da due anni, cioè noi chiediamo alla Cina che faccia pressioni sulla Russia perché la smetta con l'aggressione all'Ucraina, quindi questo meccanismo che diciamo non è il massimo, perché nel momento in cui tu dici che uno stato sovrano è legittimo che faccia pressioni su un altro stato per non aderire alla propria agenda, significa che poi più o meno sei anche disponibile tu a subirla una pressione e che tutto questo è normale. Quindi diciamo è abbastanza indicativo che abbia deciso di marcare questo incontro in questo modo. Ma la cosa secondo me più interessante è che mentre appunto i mass media non ne hanno sostanzialmente parlato, del governo è uscita fuori soltanto questa cosa, beh diciamo il mondo delle imprese invece si è fatto sentire perché Confindustria e quindi poi il Sole24ore ne hanno parlato e hanno dato ampio spazio e tendenzialmente il mondo delle imprese che lì era presente ha invece utilizzato un registro linguistico completamente diverso. Sono state indicative le dichiarazioni appunto di Confindustria che praticamente hanno tirato fuori i dati del loro centro studi dove praticamente parlano di un potenziale inespresso di 2,4 miliardi di euro di export aggiuntivo di beni italiani e altri 2 miliardi di beni strumentali appunto italiani rispetto al mercato al mercato al mercato cinese e poi hanno provato a fare diciamo una così a giocare un po' con i numeri vedendo quella che è stato come dire come è cresciuto l'export italiano verso la Cina da quando la Cina è entrata nel WTO e quindi praticamente dice è cresciuto il nostro il nostro import del 500% è cresciuto l'export del 500% e l'import del 540% che è un po' almeno io l'ho voluta leggere così esattamente un messaggio un messaggio politico cioè nel momento in cui tu sottolinei che l'ingresso nella Cina del WTO porta dei vantaggi e dei benefici stai sostanzialmente dicendo che la politica di smontare appunto il mercato aperto i rapporti commerciali basati sulla cooperazione eccetera questo poi non porterà vantaggi e almeno io l'ho voluto intendere in questo modo quindi diciamo abbastanza interessante e abbastanza interessante il fatto che c'è questo scollamento tra mondo delle imprese e quadro politico che poi esattamente lo scollamento che vediamo in Europa e che forse ragionando un po' diciamo così di andando a deduzione spiega perché la Germania invece provi pur dentro le compatibilità tutto il quadro della guerra ucraina dove si muove di concerto con quelle che sono le decisioni da un lato dell'Unione Europea dall'altro lato degli Stati Uniti eccetera sul tema del rapporto industriale con la Cina cerca di muoversi diversamente tutte le volte che va Scholz si porta dietro un aereo pieno di CEO di aziende tedesche che lì hanno investimenti produttivi e che continuano a dire diciamo così noi vogliamo continuare a mantenere un rapporto appunto per la manifattura tedesca con le aziende cinesi questa volta è andato giù con parecchi rappresentanti del mondo dell'automotive e anche questa è una parola magica nel rapporto con l'Italia perché poi chiuso il vertice di Verona è venuta fuori la notizia che il governo però diciamo così dietro le quinte stia trattando con la Cina per l'apertura di uno stabilimento produttivo in Italia di auto elettriche il che io diciamo non ho dettagli approfondimenti maggiori su questo di per sé la notizia così è buona perché nel momento in cui noi siamo indietro Stellantis è partita per la tangente andando chissà dove diciamo diventare noi il posto dove una delle aziende insomma dell'automotive cinese produce per il mercato europeo è sicuramente un punto un punto di vantaggio con un piccolo immagino poi ci dirà Davide punto di orgoglio da parte cinese cioè vent'anni fa e trent'anni fa era in Cina dove si andava a produrre e dove noi portavamo la tecnologia adesso è la tecnologia cinese che viene in Europa e noi siamo ben contenti di diventare diciamo così i produttori come dire gli operai delle fabbriche cinesi che producono prodotti tecnologici abbastanza avanzati quindi questo è un po' diciamo un aspetto abbastanza secondo me abbastanza interessante abbastanza curioso e il ragionamento che io condivido in toto diciamo così dell'analisi del del viaggio della Yellen fino a diciamo a tutta la a tutte le mosse che si stanno facendo dal punto di vista economico e militare nell'Asia Pacifico ehm aggiungo solo una considerazione che peraltro è un come dire sono delle considerazioni fatte da da Tria l'ex ministro dell'economia italiano del governo che appunto siglò l'accordo con la Belt and Road ehm il quale è circa un mesetto fa sempre sul sole 24 ore quindi eh sottolineiamo questo figlio di continuità ehm aveva dato una lettura da mio modo di vedere interessante lui dice delle cose che sostanzialmente qua su su mondo Cina come dire vengono dette da da molto tempo no diciamo primo punto eh l'economia cinese è in una fase di transizione di cambiamento molto profondo e quindi quelle che noi stiamo vedendo anche come momenti come dire di non grande performance no dal punto di vista economico in gran patte nascono anche proprio da questa da questa sostanzialmente da questa trasformazione parallelamente a questo e questo è un prima una prima considerazione interessante eh Tria sottolineava come questo cambiamento quindi diciamo così la scelta della produzione manifatturiera sulla fascia alta e quindi sulla fascia tecnologica alta il governo la vuole accompagnare ad un cambio nei consumi dei eh non solo dei consumatori cinesi ma proprio dei risparmiatori della serie vista ovviamente da un occidentale ma che conosce bene la Cina c'è troppo risparmio fino ad oggi il risparmio cinese è andato prevalentemente ovviamente sul real estate anche perché garantiva come dire delle rendite pazzesche oggi il real estate non è il cavallo che tira la biga ma appunto eh ci sono i nuovi settori e quindi il governo deve indirizzare anche il risparmio verso questi nuovi settori e quindi anche il fatto che ci sia diciamo così questa eh super no sovrapprozzo overcapacity in alcuni settori nasce dall'esigenza di spin cioè perché perché diventino quelli cavalli che tirano diciamo così la eh che tirano così la carrozza ehm ma dopodiché diciamo ehm il la la Cina per eh permettersi di compiere questa transizione deve continuare a ehm come dire a a a essere aperta sia nei confronti dell'Europa che nei confronti del resto del mondo e quindi dice in realtà eh è una notizia positiva diciamo non dava un giudizio così negativo su questa ehm overcapacity della della Cina perché nasceva da questi elementi congiunturali ma soprattutto per poter in maniera equilibrata gestire questa questa sua transizione continuerebbero a rimanere aperti al resto del mondo e questo è importante perché dice mentre noi qui in Europa siamo praticamente con con l'inflazione che con l'inflazione che ha le stelle eh l'apertura di prodotti che sono in overcapacity in 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 Cina porterebbe diciamo così a calmirare anche l'elemento di cioè dice importeremmo della deflazione quindi questo aiuterebbe a importare eh diciamo così della deflazione in Europa ovviamente questo genera una contraddizione perché se tu importi questi prodotti eh diciamo così importi di deflazione cioè praticamente i prodotti sono scesi di prezzo ovviamente questi prezzi più bassi dalla Cina come abbiamo conosciuto trent'anni fa portano un elemento di contraddizione anche eh anche in in Europa cioè non è un un processo ehm diciamo così assolutamente privo di assolutamente privo di contraddizioni ma questo permetterebbe comunque ehm al manifatturiero qui di riuscire a ehm andare avanti piuttosto che invece continuare ad avvitarsi nella spirale eh di crisi che sta che sta portando avanti e che che sta vivendo e questa mi sembra un'osservazione interessante da chi come dire con una cultura assolutamente europeista diciamo così da uomo dell'Occidente cioè non 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 si può certo fare la caricatura di Tria porta alcuni elementi di razionalità al dibattito europeo che invece è animato dall'isteria eh che stiamo vedendo prevalentemente appunto alimentata dalla eh dalla decisione americana di continuare questa campagna contro la Cina per tentare poi il zucco di bloccarne gli aspetti eh di sviluppo tecnologico e produttivo. L'ultima considerazione io non so come finirà qua nessuno c'ha la palla di vetro diciamo che in passato non è andata benissimo questa questa mossa occidentale perché quando noi abbiamo deciso di ehm escludere la Cina da una serie di settori pensiamo per esempio all'aerospace e soprattutto alle esplorazioni spaziali e noi italiani da questo punto di vista abbiamo pagato un prezzo in prima persona perché quando si normalizzarono i rapporti tra Stati Uniti e Cina l'Italia fu uno dei paesi in accordo con gli Stati Uniti che forniva tecnologia in questi settori alla Cina quindi poi diciamo abbiamo pagato un prezzo in prima persona il risultato è stato che la Cina si è fatta la sua navicella spaziale ha fatto tanto le esplorazioni sul lato oscuro della Luna e ehm l'esplorazione su Marte va avanti cioè mh alla fine l'idea di eh escludere completamente dal tavolo la Cina li ha l'ha ancora di più eh convinta ad investire in genti risorse statali tutte le migliori intelligenze e energie del paese poi sono arrivati lo stesso all'obiettivo senza alcun tipo di diciamo così di guadagno win-win da parte nostra quindi continuare con questa strategia c'è l'alto rischio che diventi l'ennesimo suicidio di chi cerca di escludere dal tavolo un paese che anche l'anno venturo come dire contribuirà secondo il Fondo Monetario Internazionale a un quarto del PIL mondiale e poi in realtà ehm diciamo ehm ne paga le conseguenze e nel rapporto occidentale come avete detto sempre voi nei nei video eh splendidi che fate nel blocco occidentale poi alla fine è l'Europa che paga diciamo così il conto più salato di tutti di quella che è poi la strategia americana. Peccato che se c'è Scholz che prova in qualche modo spinto dalla sua industria manifatturiera a muoversi diversamente ci sono altri eh come dire leader europei dalla Fonderlein alla Meloni che ehm come dire rimangono nell'ambito semplicemente della propaganda come se quello fosse poi l'unico tema su cui riescono a giocarsi la partita a livello nazionale. Io ti volevo chiedere da questo punto di vista siccome appunto il pupone che ehm abbiamo pubblicato ehm venerdì mattina è eh proprio su eh l'uno due no? eh Draghi che alla Ulpe eh diciamo fa un primo discorso pubblico sul report che dovrà fare sulla competitività eh sulla concorrenza e poi il giorno dopo appunto uscito il report invece curato eh da Enrico Letta sempre appunto no? Su 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 questi temi eh che in qualche modo diciamo danno segnali un po' contraddittori ora non entriamo un po' troppo nel dettaglio ci ho perso insomma c'è mezz'ora di pippone per entrare un po' nel dettaglio di questa cosa qua però come vedevi rispetto appunto a questo tipo di riflessione in particolare diciamo su questo disaccoppiamento tra le esigenze e anche proprio la pressione politica del mondo eh produttivo e poi invece la narrativa che ricopiamo diciamo copi in colla dalla narrazione eh eh statunitense e anche in termini di in qualche modo io nel pippone ad esempio ho detto un fatto ho detto una cosa un po' ho usato un termine un po' complottista no? Gatekeepers no? Ho detto Draghi e Letta mi sembrano un po' i gatekeepers del malessere che c'è nel mondo produttivo quindi diciamo raccogliamo questo malessere proviamo a dargli una risposta però diciamo sempre mantenendola completamente negli ambiti della compatibilità che purtroppo nel nostro caso la compatibilità vuol dire comunque subordinazione agli interessi strategici statunitense no? Come c'è che idea ti sei fatto di questa doppia uscita tra l'altro la Wunderlein l'ha proprio ehm diciamo sposata e pompata tantissimo dicendo no? Draghi e Letta ci indicano il futuro insomma cioè nel senso proprio con con tono poi appunto è tornato San Mario Pio quindi diciamo proprio la millina il millenarismo proprio eh religioso nei confronti di questa figura insomma lo si si in qualche modo fa parte del del quadro complessivo qualche idea ti sei fatto cosa 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 significano queste due cose ma intanto guardando la biografia dei due uno e nei fatti anche se poi appunto noi ce lo ricordiamo per le e parliamo di quello che chiami San Mario Pio cioè ce lo ricordiamo per le conferenze stampa settimanali alla BCE però in realtà lui è l'uomo adesso la dico male ovviamente le cose non sono così però diciamo è l'uomo degli interessi americani non è l'uomo degli interessi europei o di una cultura diciamo così di un'Europa che sia alleata degli Stati Uniti ma che prova a giocare un ruolo in primo piano l'altro invece è l'inverso cioè tutta la sua biografia politica è legata a quest'idea anche un po' diciamo così poco concreta perché nel momento in cui l'Europa nasce come diciamo così subordinata agli Stati Uniti poi grandi margini di autonomia non li può avere però in qualche modo i libri che ha scritto gli interventi che ha sempre fatto rimandano ad uno europeismo che cerca in qualche modo di costruire un appunto uno spazio politico che ripeto rimanendo dentro l'alleanza atlantica eccetera però cerca di giocare un ruolo da protagonista quindi secondo me c'è innanzitutto proprio una visione politica che è diversa nei due e sicuramente queste due visioni politiche parlano a pezzi diversi del mondo produttivo e se il primo il santo parla di più agli aspetti finanziari che non a caso sono intimamente legati come dire agli Stati Uniti e quando quegli aspetti finanziari arrivano diciamo così sul mondo produttivo sono guai tu hai fatto miliardi di video no sul ruolo che stanno giocando i fondi di investimento praticamente nella manifattura e nell'industria italiana e anche europea e sono guai seri l'altro invece ovviamente quando parla in quel modo tocca le corde più profonde di un settore manifatturiero che deve essere internazionale globale per cui non è che vuole scegliere tra Stati Uniti e Cina ma vuole continuare a vendere o comunque a essere interfacciato con con Cina e con Stati Uniti e che quindi diciamo così vedrebbe in un ruolo europeo un maggiore elemento di garanzia come vent'anni fa oramai ovviamente la la fascia si è molto più ridotta c'erano quei pezzi di industria italiane che erano spaventate dalla dimensione europea perché appunto la competitività le avrebbe spazzate via e in casi è successo così e quindi vedevano sotto l'ombrello diciamo così del mercato nazionale l'unico diciamo così terreno per poter continuare a restare diciamo così in campo quindi io personalmente non so se a me sembra più questo cioè che che i due si muovano più su un piano diciamo così ideale ideologico e rispondono a settori diversi più che una pressione del mondo delle imprese che che li spinge da una parte o dall'altra credo credo più la prima però potrei sbagliare vorrei aggiungere una piccolissima cosa su questa un altro aspetto rispetto alle biografie diverse un'altra cosa importante che forse tra l'altro mi viene in mente ora nel pipone non ho sottolineato abbastanza è che letta comunque molto legato alla francia e invece diciamo e draghi invece molto legato agli stati uniti ma e alla germania questa cosa qua è importante in qualche modo non so quanto poi si traduca appunto diciamo concretamente diciamo influenzi la visione generale che hanno però perché sostanzialmente la francia è l'unica media potenza regionale finanziaria in europa dell'europa continentale ovviamente le vada quindi no la gran bretagna no e ad esempio diciamo i nostri la nostra black rock in miniatura è a mundi ad esempio no quindi diciamo c'è anche secondo me una partita nel pensare alla continentalizzazione della finanziarizzazione nel senso il discorso che fa letta è molto dobbiamo avere la nostra black rock e la nostra vanguard ok mentre diciamo probabilmente questo diciamo non lo posso dire il rapporto di letta c'è e l'ho letto tutto insomma e dice alcuni passaggi insomma possano essere letti in questa chiave qua il rapporto di draghi ancora non c'è uscirà a fine giugno c'è solo questo discorso di una ventina di minuti un po più generico che inquadra però diciamo quindi diciamo questo che posso dire su draghi è è proprio cioè un volo pindarico che faccio io sulla basandomi sulla biografia però appunto invece chi più guarda al mondo diciamo tedesco il mondo tedesco in qualche modo ha rinunciato ad avere un ruolo finanziario si è concentrato sul mondo produttivo in qualche modo accettando la subordinazione finanziaria degli stati uniti in cambio di poter portare avanti le sue politiche mercantiliste quindi diciamo un'altra linea di frattura possibile è proprio questa tra chi vorrebbe in qualche modo imitare gli stati uniti per fare gli stati uniti in piccolo in italia in europa e su questo l'ho sottolineato molto nel pippone nel senso fare gli stati uniti senza il dollaro che è un problema e con una moneta che è strutturalmente nata per essere subordinata al dollaro la banca centrale nostra è subordinata alle decisioni alle decisioni della fed però insomma in questo piccolo quadro fare una piccola una piccola colonia che però un margine di una piccola una grande colonia che però un margine di autonomia o comunque di capacità di creare profitto insomma per le sue elite e le sue eligarchie attraverso la ricostruzione di quel modello in piccolo è molto svantaggiato che però su alcuni settori questo anche su alcuni settori magari potrebbe essere in qualche modo concesso dagli stati uniti che questo meccanismo qua permetta di creare dei campioni europei in grado di competere sui mercati globali ad esempio nella difesa e faccio questo ragionamento qua perché sostanzialmente la mia idea questo l'ho detto da subito quando c'è stata la retorica sul riarmo europeo è un pochino che in qualche modo gli stati uniti siccome si rendono conto di non avere una base industriale sufficiente nel comparto bellico per appunto fare il confronto contro un asse diciamo informale tra russia iran cina eccetera in qualche modo sono i primi ad essere interessati che l'europa si doti di un'industria bellica di una capacità produttiva bellica importante che almeno le permetta di fare da sola la guerra di logoramento contro la russia per dirla no in maniera tranchante e quindi quello è un aspetto mentre l'altro aspetto diciamo è quello più legato al mondo almeno così deducendo dalla sua biografia appunto di draghi potrebbe essere quella in più di puntare direttamente diciamo al mondo produttivo europeo incentrato sulla germania però mantenendo una subordinazione proprio diretta dai capitali e dai fondi americani quindi ad esempio diciamo senza la necessità di creare meccanismi per crearci la nostra piccola black rock e vanguard ma semplicemente attirando un pezzo dei capitali che vanno negli stati uniti si concentrano negli stati uniti anche per finanziare un pochino diciamo di nostra ripresa economica questa può essere anche una linea di frattura appunto stiamo parlando proprio a livelli di astrazione piuttosto alti no quindi contraddetta da 700 mila dati possibili però insomma questa è una chiave di lettura che ci può essere utile per capire alcune cose davide su tutto questo scholtz jelen scholtz italia bla bla e overcapacity sì quello che quello che si potrebbe aggiungere diciamo a questo a questo fresco sono le varie vari punti in cui sono esplose si sono surriscaldate le tensioni tra tra cina e stati uniti compresa la questione quindi della della sovraccapacità e quindi della jelen però recentemente in questa è stata lanciata anche l'indagine sull'acciaio e sull'alluminio questo è accaduto ieri quindi con l'idea che si possano aumentare le tariffe raddoppiare le tariffe sull'alluminio da parte degli stati uniti e contemporaneamente anche l'indagine della sezione 301 quella che dà al presidente statunitense pieni poteri per il controllo del commercio e in questo caso si prende di mire i settori settore marittimo quindi la logistica la costruzione di navi che sappiamo che un settore nel quale la cina ha un forte predominio poi aggiungiamo anche tik tok dal quale pare che già domani potrebbe esserci un passo in più su quella legge che potrebbe di fatto vietare agli statunitensi l'utilizzo di questa applicazione e questo per quanto riguarda il fronte economico il quale poi si aggiungono i continui controlli sulle sulla tecnologia quindi la guerra tecnologica che è continuata ad aumentare e poi continua la questione dell'accerchiamento militare quindi gli incontri usa giappone di cui si è parlato e le esercitazioni marittime degli stati uniti nelle filippine ecco questi non sono non è la totalità dei problemi sul tavolo ma sono i problemi che si stanno surriscaldando in questo momento ci sono anche altri oltre a questi ma questi sono i principali e questo fa capire come in un certo senso la quello spirito di san francisco quella distensione che si è cercata di mettere in mostra san francisco lo scorso novembre bene infatti si sia già si è già andata in tilt sostanzialmente anche se si cerca di preservare ci sarà la visita di blinken c'è stata la visita appunto della della jelen e certo dalla visita della jelen emergono segnali positivi comunque è positivo questi incontri questi scambi diplomatici la jelen è considerata una una colomba però è significativo che sia stata proprio questa colomba a parlare della sovraccapacità e quindi della possibilità che vengano aggiunte ulteriori tariffe ulteriori dazi ricordiamoci la jelen in passato era una voce che invece si opponeva alla guerra economica e e quindi appunto la sovraccapacità questa questa nuova questo nuovo tema che è emerso nello scontro tra cina e stati uniti è un tema che per certi versi sicuramente valido ma per molti altri versi no nel senso che bisogna capire in quali ambiti nel modo in cui la posto la jelen in maniera così generica andando anche a concentrarla su su settori in cui la sovraccapacità non c'è come ad esempio quello delle delle auto nuova energia e che non ci sia ce lo dicono i cinesi ma tutto sommato ce lo diciamo pure noi da soli ce lo dice bloomberg in un articolo che ha accompagnato la visita della jelen si è messo ad analizzare un po di dati arrivando insomma a determinare come la capacità totale dell'industria cinese su una scala da da 0 a 100 starebbe più o meno intorno a 76 dove la capacità degli stati uniti invece è intorno a 78 e che cosa significa questo dato beh più è basso più vuol dire che le aziende le industrie sono inattive quindi vuol dire che c'è sovraccapacità più è alto più vuol dire un sul riscaldamento dell'economia e della produzione il valore ottimale è 80 la cina appunto sta a 76 stati uniti sono a 78 quindi più o meno il livello non è allarmante anche perché per quanto riguarda la cina è comunque di qualche punto percentuale più alto rispetto al 2016 cioè quando per la prima volta il governo cinese ha preso atto insomma del problema della sovraccapacità e ha messo in atto misure per contrastarle misure che evidentemente hanno dato i loro frutti tanto che di alcuni punti percentuali si è si è alzato questo valore ed è positivo che che si alzi e soprattutto parlando di settori come le auto elettriche beh lì ci si avvicina proprio all'ottanta quindi ci si avvicina al valore ottimale della capacità dell'industria per cui no non c'è sovraccapacità la stessa cosa la ribadita il jamin jebao quindi andiamo invece sul lato cinese non so se l'hai detto chiaramente quella percentuale è la percentuale di sfruttamento di utilizzo delle linee produttive nel senso quindi quanto stanno lavorando rispetto alla linea che ti hai costruito quanto sta lavorando ovviamente esatto esatto quindi più è basso più il problema potrebbe esserci se siamo intorno all'ottanta appunto questo è il valore ottimale anche per come lo intende il governo il governo cinese va che va scusa sottolineo anche che va messo insieme a quanto crescono gli stock perché ovviamente te potresti anche sfruttare dall'ottanta per cento però stare costruendo magazzini sconfinati di roba invenduta e quella appunto sarebbe sempre sovraccapaciti ma anche dal punto di vista dei magazzini insomma questo dato qua non è particolarmente allarmante insomma lo stock è sotto il 50 per quanto riguarda le scorte si è sotto il 50 anche gli Stati Uniti e Cina mi pare sono più o meno simili 48 l'uno 49 l'altro sempre su una scala percentuale quindi da 0 a 100 si è sotto il 50 dove di nuovo andando sopra il 50 si può cominciare a parlare di sovraccapacità perché si parla di magazzini pieni o che si stanno riempendo ma sotto il 50 invece il problema non c'è quindi anche anche questo dato appunto è stato preso in considerazione ma come sono stati presi in considerazione insomma vari elementi da da bloomberg o appunto dal Jemin Rebao che accompagnando la visita di Scholz ha notato come la produzione cinese di nuovi di veicoli a nuova energia nel primo trimestre 2024 è aumentata del 28 2 per cento mentre le vendite sono aumentate del 31 e 8 per cento quindi anche la domanda e le offerte insomma sembrano muoversi in una maniera che non è preoccupante per quanto riguarda i veicoli a nuova energia questo non vuol dire che allora non ci sia sovraccapacità in generale non solo in Cina ma anche a livello mondiale pensiamo ad esempio al settore dei chip dove gli investimenti sono aumentati parecchio negli ultimi anni certamente sono aumentati molto in Cina ma non solo e questa cosa è dovuta chiaramente alla guerra tecnologica che da un lato ha portato la Cina a investire parecchio nella sua industria dei semiconduttori e poi dall'altro lato la guerra tecnologica il disaccoppiamento la ristrutturazione delle catene di valore ha portato anche una duplicazione in qualche modo dei passaggi dell'industria sappiamo che sono emersi nuovi nuovi paesi che fanno da interfaccia tra Cina e Stati Uniti il Vietnam il Messico si parla dell'India e quindi la necessità di rivolgersi all'India per disaccoppiarsi dalla Cina ecco tutto questo ovviamente allunga le catene di valore della merce ma porta anche la duplicazione di alcuni apparati tecnologici e in questo senso si può parlare quindi di un problema futuribile di sovraccapacità che a un certo punto certamente potrebbe emergere o il settore dei pannelli solari ecco un altro settore che in Cina soffre di un problema di sovraccapacità è certamente quello dei pannelli solari quindi è un problema che esiste è un problema certamente importante e che andrebbe affrontato diciamo con la collaborazione tra le grandi potenze ma è evidente che lo scopo è esattamente l'opposto cioè rendere questo problema il nuovo scontro tra Cina e Stati Uniti evidentemente questo non porterà la sua risoluzione. Sul discorso dei pannelli bisogna ricordare che il problema è anche che diciamo tutti i sistemi di finanziamento del sud globale per permettergli la transizione si sono completamente impantanati quindi il sud globale non sta investendo in elettrificazione in produzione di energie rinnovabili quindi ci sono una serie si parla di transizione ci sono una marea di pannelli low cost che si potrebbero impiegare domattina ma non ci sono gli strumenti finanziari per metterli in campo e per permettere in particolare al sud globale di fare questo passaggio qui che significa anche indipendenza energetica quindi diciamo un volano per lo sviluppo molto importante quindi la sovraccapacità in questi settori ce la siamo anche completamente creata in modo artificiale ecco cioè il mercato di sbocco ci sarebbe come proprio l'esigenza anche al di là del mercato di sbocco in termini capitalistici proprio l'esigenza reale concreta materiale a livello di valori d'uso di utilizzarli tutti quei pannelli lì però poi non si utilizzano la nostra transizione bloccata e la quella del sud globale ancora di più perché sono tutti indebitati fino al colle non c'è più nessun sistema di sostegno ai finanziamenti del sud globale che non sia diciamo i fondi che va mettano soldi dove li pari ovviamente non in base a finalità politiche se c'è una sovraccapacità in certi settori c'è sembra generata diciamo da da politiche internazionali generata da questa politica di derisking che poi alla fine dei finali sembra che più che derischiare stia creando negli effetti dei nuovi rischi e questo per quanto riguarda appunto la visita della Yellen che c'è stata la settimana scorsa se non sbaglio e a questa è seguita la visita altrettanto importante di Scholz e quindi qua siamo all'incontro tra due potenze della della manifattura almeno la Germania per quanto in crisi comunque lo è e la Cina per quanto riguarda l'Asia e l'incontro di Scholz stando le dichiarazioni sono dichiarazioni dai toni molto molto morbide sia quelle espresse da alcuni dei dirigenti che hanno fatto seguito la delegazione Scholz perché poi ovviamente Scholz non c'è andato da solo c'è andato col solito corteo di diplomatici e di imprenditori che sono quegli imprenditori diciamo che investono di più in in Cina e che si sono espressi in qualche modo anche a favore di continuare ad investire in Cina questo lo diceva il CEO della Siemens che ha parlato della possibilità di raddoppiare gli investimenti poi sappiamo che la Germania c'è aziende come Volkswagen e il 50 per cento delle vendite è sostanzialmente nel mercato cinese quindi aziende che temerebbero delle ritorsioni nel caso in cui venissero approvate delle politiche di decadi di anti dumping tra l'Europa e la Cina per cui le le dichiarazioni sono abbastanza distensive anche il readout che poi è stato dato dopo l'incontro tra Scholz e Xi Jinping è un readout nel quale insomma Xi Jinping presidente cinese parla della necessità insomma di affermare i rapporti tra queste potenze non c'è niente per le quali competiamo anzi la collaborazione ecco la chiave della stabilità non solo nei rapporti bilaterali ma della stabilità mondiale questo dice Xi Jinping ci parla del multipolarismo e quindi della necessità di incontrarsi su tavoli multilaterali e la stessa cosa sostanzialmente dice Scholz in cui afferma l'interesse della Germania di collaborare a tutto tondo con con la Cina in ogni settore e di sostenere quindi la le i tavoli multilaterali ecco questa è la facciata in cui certamente c'è interesse c'è anche necessità voglio dire la situazione tedesca dell'economia non permetterebbe certo uno scontro frontale con con la Cina ne parlava anche politico in cui riportava una ricerca che affermava che se ci fosse un disaccoppiamento tra Germania e Cina la Germania calerebbe l'economia tedesca calerebbe di un 5 per cento poi politico affermava che questo sì sarebbe brutale ma non fatale d'altra parte politico uno di quei giornali che probabilmente sarebbe anche felice se ci fosse questo disaccoppiamento lo paragonerebbe tutto sommato la crisi finanziaria del 2008 a quella che c'è stata con con la pandemia quindi qualcosa sì di terrificante ma comunque affrontabile ciò che politico non sottolinea è che la Germania sta già affrontando una situazione terrificante quindi un ulteriore calo del 5 per cento si andrebbe a sommare non sarebbe parallelo e separato a ciò che sta accadendo però come diceva appunto politico sì Scholz può anche andare a ballare in Germania tirava fuori questa metafora presa da da tik tok anche perché Scholz era si è recentemente iscritto a tik tok a quanto pare promettendo di non ballare così dice Scholz sul suo profilo ma politico dice no Scholz sta ballando e come la sua delicata danza cinese che che però la musica la suona agli Stati Uniti nel senso che la musica che Scholz balla può interrompersi in qualsiasi momento perché dice politico se la situazione si fa critica la dipendenza che la Germania ha verso gli Stati Uniti nella sicurezza beh porterebbe la Germania a dover fare tutto sommato quello che gli Stati Uniti chiedono di fare comunque Scholz evidentemente ha un dialogo al tentativo di costruire un dialogo ci ci crede o quantomeno ci ci prova in un contesto in cui però ci sono stati anche dei cambi strutturali tra la relazione economica tra la Cina e la Germania e di questo ce ne parla un report della di Allianz un report recente delle ultime settimane in cui ci delinea un po' lo status di queste di queste relazioni commerciali eh insistendo chiaramente sul fatto che la bilancia commerciale tedesca con la Cina sia andata in in tilt da molto tempo ma eh negli ultimi anni il deficit commerciale si è si intensificato non si è più ripreso eh dalla dalla pandemia ma questo dipende chiaramente anche dal fatto che l'economia tedesca sia in recessione quindi la sua capacità di esportare eh evidentemente è è diminuita di conseguenza ma non dipende solo da questo dipende anche dal fatto che negli ultimi anni la Cina ha risalito con costanza quella che è la catena eh del valore ha conquistato delle quote di mercato in settori industriali anche avanzati e questo ha portato anche a scalzare i prodotti europei dal sia dal mercato interno cinese ma anche in qualche modo dalla dalla situazione dal mercato internazionale eh nel perché se prendiamo ad esempio alcuni eh framework come quello dei dei BRICS o come quello dell'ASEAN beh nei BRICS esclusa la Cina le esportazioni di macchinari tedeschi sono diminuite del 23% mentre nell'ASEAN sono diminuite del 14% rispetto al 2019 quindi negli ultimi cinque anni e contemporaneamente quelle cinesi sono aumentate dell'89% eh verso i BRICS senza Cina e del 31% verso verso l'ASEAN quindi è chiaro che la concorrenza sino tedesca eh si fa forte eh non riguarda solo ciò che accade nel mercato interno cinese ma riguarda appunto anche quei paesi verso i quali si è rivolta la via della seta no? Questo progetto che doveva avere come scopo far fallire gli altri stati beh a quanto pare no lo scopo era era un altro eh lo scopo era anche rilanciare le esportazioni cinesi eh da quello che è il calo che la Cina sta avendo nel suo export verso verso l'Occidente e questa cosa sta funzionando ehm mi pare che siamo quasi a un 50 e 50 nel senso che la quota delle esportazioni verso la Belt and Road è arrivata a qualcosa come il 47 o 48% dell'export totale cinese quindi è cresciuto significativamente con una crescita del 5% in questo secondo gli ultimi dati rilasciati la settimana scorsa quindi eh la competizione si fa forte internamente alla Cina esternamente ma anche in Europa ecco quello che Allianz rileva è che la Germania sta calando eh nel suo commercio e l'Europa è una destinazione fondamentale del commercio tedesco eh in termini relativi la Germania sta calando più di quanto la Cina stia aumentando in termini assoluti chiaramente la Germania mantiene ancora una sua forte una sua forte quota ecco eh tutto questo scenario fa parlare Allianz di una sorta di di cambio strutturale nelle relazioni tra tra Germania e e la Cina e quindi qualcosa che rischia di portare ad uno ad uno strappo eh non stupisce che sono aumentate e sono affermate voci di politici importanti in Germania i verdi eh che sono assolutamente contrari alla Cina favorevoli a un disaccoppiamento tra tra i due paesi e sono voci politiche alle quali il cancelliere ovviamente deve deve dare ascolto e però Allianz stessa piuttosto che eh cedere all'idea che politiche protezionistiche anti-dumping potrebbero far bene alla Germania ci sono poi tutte le ritorsioni cinesi che sul settore automobilistico sarebbero importanti ecco più che quest'idea qui Allianz sostiene che la Germania dovrebbe lavorare su se stessa eh quindi con politiche che favoriscano l'innovazione con un alleggerimento della burocrazia insomma eh politiche nazionali che vadano a rilanciare in qualche modo eh l'industria tedesca ora questo è il quadro generale quindi sempre sempre la consiglio di Allianz sempre di carattere mercantilista cioè non rilanciare il mercato interno ma sempre nella competizione sull'esportazione sì sì lo scopo è sempre rilanciare quella che sono le esportazioni tedesche ecco eh questo è un po' il quadro di delle relazioni dei rapporti e sì sicuramente Scholz fa parte di di quegli stati che ancora sperano di poter gestire un dialogo eh anche se c'è in corso una guerra una guerra economica una guerra tecnologica tra cinque Stati Uniti dovesse fallire questa guerra economica dal lato statunitense non dovesse raggiungere i risultati che sperano eh beh è chiaro che ciò che sta accadendo invece dal lato militare quindi l'aumento eh la 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 firma del del trattato di mutua difesa con il Giappone e le Filippine le esercitazioni navali e e tutto quello di cui già spesso abbiamo parlato beh fa presagire la possibilità che questa guerra economica diventi poi eh militare no ma stavo pensando un attimo siccome questa cosa qua appunto essendoci l'AIP che ovviamente in qualche modo ci condiziona almeno condiziona insomma ci siamo occupati di eh nuove tecnologie tutta la roba che serve per fare la transizione green le auto elettriche e bla 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 per appunto questa partita qua dell'acciaio tra l'altro è molto importante perché appunto ha molto a che vedere direttamente con la costruzione diciamo della base industriale per la lunga guerra in qualche modo no quindi è assolutamente fondamentale capire come si evolve quella cosa lì tra l'altro diciamo eh volendo fare trovare un compromesso diciamo tra tra varie esigenze si potrebbe anche dire che se insomma le polemiche e e anche le eh politiche protezionistiche da quel punto di vista lì sono anche giuste tra virgolette o comunque diciamo eh comprensibili perché insomma non avere una propria base industriale eh nell'industria pesante eccetera sicuramente è stato un errore eh da tutti i punti di vista anche per diciamo eh le classi subalterne eh dell'occidente e quindi questa diciamo una cosa che potrebbe anche avere senso eh dal punto di vista appunto delle di tutte le nuove tecnologie dell'auto elettrica e dell'auto elettrica diciamo quella che chiamano overcapacity semplicemente perché le industrie europee e occidentali in generale non hanno investito e e quindi hanno macinato profitti e quei profitti poi li hanno messi a far rendita nelle bolle finanziarie e mentre questi hanno investito no e quindi oggi oggi parlare di sovraccapacità se è ovviamente una spinta diciamo a nuovi investimenti ben venga nel manifatturiero ci mancherebbe altro eh però diciamo eh se in tema è anche quello della transizione ecologica cosa per cui io sottolineo spesso che diciamo no la visione un po' climato scettica diciamo è perfettamente funzionale all'imperialismo in questa fase qua è una cosa su cui dovremmo puntare parecchio perché appunto giustamente diciamo il climato scetticismo nasce ed è giustificato dal fatto che la transizione ecologica e la crisi ambientale in qualche modo è stata strumentalizzata per accelerare un processo di finanziarizzazione di tutto un altro pezzo di economia ed è giusto opporsi con tutta la forza possibile a questa cosa qua però da questo punto di vista di qua è diventata veramente uno strumento perfetto come i diritti civili ci mancherebbe altro che noi non siamo per i diritti civili però diventa eh uno strumento diciamo eh eh molto adatto che che in qualche modo viene sottolineato diventa parte diciamo della narrazione eh proprio in chiave imperialistica quindi ora tutto questo scetticismo sul clima che si fa avanti tra l'altro eh gli stessi Draghi e Letta hanno detto abbiamo un po' esagerato no? Cioè questa cosa qua è interessante insomma le tesi della verità e di Franco Battaglia diventano un pezzettino no? Della eh della eh delle dei report di Draghi e di Letta diciamo abbiamo un po' esagerato sì va bene bisogna fare la transizione ma che la dobbiamo fare solo noi no? Cioè questa cosa qua quindi attenzione a questo passaggio qua invece appunto sulla sulla partita dell'acciaio eh è interessante tra l'altro da questo punto di vista qua è sempre interessante anche monitorare un po' come si divide il campo statunitense no? Tra mondo più collegato a Trump e mondo più collegato a Biden perché appunto sono sempre segnali un po' eh discordanti tra chi è il più feroce anticinese insomma quello più pericoloso nell'escalation contro la Cina a volte a volte uno a volte l'altro ricordiamo che Trump come il nostro governo che sta trattando per attrarre investimenti nell'automotive in un discorso elettorale ha detto se i cinesi vogliano venire a investire qui per produrre qui le auto elettriche sono i benvenuti insomma è un segnale molto molto interessante eh non so se volete chiudere con qualche altra considerazione un ultimo giro veloce e poi ci salutiamo. Fra? Io velocissimamente solo una così un pensiero no? Mi si affacciava mentre mentre vi ascoltavo. Eh questa guerra fredda, questa nuova guerra fredda adesso dell'Occidente contro la Cina è molto come dire e sta diventando molto feroce, è molto pericolosa anche con il rischio che si trasformi in una guerra calda. non che quella che abbiamo vissuto nel novecento no? Nella guerra fredda con l'Unione Sovietica fosse una passeggiata di salute cioè anche quella era caratterizzata diciamo così da un livello di scontro e e di pressione molto forte. Però forse mi sbaglierò ma a primo acchitto mi sembra come dire un'evidenza questa lampante che si vede è che mentre in quel periodo comunque le pressioni statunitensi sull'Europa arrivavano e diciamo così impattavano su una pensiamo a quantomeno solo all'Italia su una classe dirigente che era sì assolutamente diciamo così schierata da una da una determinata parte della barricata ma che in qualche modo avevano verrebbe da dire la schiena dritta cioè c'era una classe dirigente che comunque mediava le pressioni no? Cioè se pensiamo che nel dopoguerra così c'era l'ambasciatrice americana la famosa ambasciatrice luce eccetera che chiamava il governo e chiamava la democrazia cristiana per dire no basta qui dovete mettere fuori legge il partito comunista dovete fare quest'altra legge cioè le pressioni c'erano anche allora solo che allora una classe dirigente che certo non si sognava di andare a braccetto con i leader sovietici però in qualche modo mediava le pressioni adesso sostanzialmente non abbiamo una classe dirigente che media le pressioni sembra come se fossero una parte di esse quasi sotto completo ricatto o in ogni caso sembra che siano completamente scollegati anche solo dagli interessi nazionali la von der Leyen è proprio diciamo così paradigmatica da questo punto di vista no? Cioè voglio dire lei è tedesca ma sembra diciamo un altro mondo rispetto alla Merkel e lo stesso anche in Italia cioè quando questo governo prova a muoversi però poi sostanzialmente e il forum di Verona ne è diciamo l'aspetto meno importante però esemplificativo cioè continuano a ripetere solo degli elementi propagandistici cioè dà l'impressione che questa volta rispetto all'altra volta se le pressioni che sempre esistono perché i grandi paesi di per sé esercitano come dire elementi di pressione sul quadro internazionale se l'altra volta c'era una classe dirigente che mediava e che quindi in qualche modo teneva conto dei rapporti e degli interessi anche nazionali o degli interessi come dire sociali che si determinavano questa volta ci stiamo imbucando in una nuova guerra che da fredda rischia di diventare calda se sentiamo appunto Gallagher e compagnia cantando senza un'intermediazione di una classe dirigente che non è solo politica magari anche industriale, finanziaria eccetera che in qualche modo medi appunto questi elementi di pressione e questo secondo me è un aspetto ancora più spaventoso diciamo dello scenario che abbiamo davanti e che secondo me diciamo questo ha molto a che vedere con la fine della democrazia nel senso quando dici la schiena dritta anche perché diciamo il loro potere derivava da un pezzo di società che gli dava un consenso e è il motivo per cui diciamo al di là di tutto nonostante io ad esempio da un certo punto di vista sia anche europeista nel senso che io penso che sia necessaria un'integrazione continentale e tutto quanto dall'altro punto di vista proprio queste proposte di Lette e di Draghi che sono proprio spingere per il mercato unico, on steroids eccetera vanno contrastate perché l'Europa è proprio antidemocratica per costituzione quindi diciamo tutta questa incapacità di assorbire le contraddizioni e mediarie tra le contraddizioni e la società è dovuta anche proprio a una struttura rappresentativa eccetera sempre più piramidale e antidemocratica e accelerare sull'Unione Europea significa proprio accelerare su questo piano qua nel senso probabilmente uno Stato vera da un certo punto di vista sono d'accordo con i liberali quando dice uno Stato veramente liberale e democratico la guerra non la fa è un po' un'eccezione però è vero che sicuramente siccome la guerra fa danni a tanti diciamo prima di imbarcarsi in una guerra diciamo deve media molto di più invece di una struttura verticistica che appunto ha la sua legittimazione del potere soltanto dall'alto e non dal basso e quindi diciamo può fare cose che vanno completamente incontro alla stragrande maggioranza come diciamo noi no al 99% e quindi all'interesse nazionale come dicevi te infatti se mi permetti diciamo anche questa vicenda che ovviamente è un po' colorita perché però avete diciamo a varie angolazioni affrontato cioè Ottolina con il ban di due video e D'Azibau affrontando proprio l'aspetto democratico di che cosa stanno diventando i social eccetera in qualche modo è paradigmatico di questa discussione sulla democrazia cioè almeno diciamo l'aspetto positivo di tutta questa vicenda è che gettano la maschera cioè non gli basta che tutti i giornali e i telegiornali siano di regime che non ci sia spazio per un confronto veramente pluralistico che non come dire che posizioni diverse da quelle mainstream non abbiano legittimità diciamo nei grandi mezzi di informazione manco la possibilità di dire le tue cose sul tuo canale nel al tuo pubblico cercano di impedirti anche questo perché è proprio la guerra totale dove appunto la democrazia è saltata completamente e loro lo rivendicano cioè siamo oramai al punto avanzato dove loro questo aspetto lo rivendicano tu non hai il diritto di poter esprimere o dire quello che pensi e questo è veramente emblematico tanto più poi quando questo tipo di critiche la fanno rispetto alla per esempio alla Cina o altri paesi per cui è lì che ci viene la grande invidia di Davide che dice vabbè io sto in Cina da un anno ma a sto punto ne rimango due e vi saluto Davide vuoi concludere? Sì no sentivo quello che dicevate è vero l'idea che quando un politico tenta di puntare sugli interessi nazionali venga criticato osperamente è successo anche a Scholz non l'avevo detto ma effettivamente mentre lui era in Cina contemporaneamente da Bruxelles è emerso un documento di un rapporto di 700 pagine che accusa Pechino di distorsioni nei settori economici chiave che ha come scopo dare materiale per chi poi vuole in qualche modo rafforzare le sue accuse anti-dumping contro la Cina la stessa cosa è accaduta con il Merix che mentre appunto Scholz era a Pechino il Merix cioè il Mercator Institute of Chinese Studies quindi uno sitting tank tedesco tra i più autorevoli in Europa sulla Cina ha commentato dicendo che la visita di Scholz è un disastro non c'è nessuna dimensione europea né nella preparazione né nell'esito della visita ciò dimostra come Scholz abbia giocato questo ruolo a livello nazionale quanto sia stato nei fatti non europeo ecco questa idea che se curi gli interessi nazionali stai andando contro l'Europa come se l'Europa non fosse un insieme di nazioni tutto sommato ecco questa cosa emerge con costanza direi ma ti ha denunciato il Parabellum alla fine? spero di sì ma non credo insomma se c'è così tempo da perdere per perdere una causa in tribunale fa una figura di merda comunque non lo so diciamo sono da quel punto di vista lì sono abbastanza sereno diciamo non per fare lo sborone però mi sono beccato cause che mi chiedevano 200 milioni cioè nel senso non è che mi spavento è vero che c'è un ufficio legale della RAI in quel caso lì questa volta qua mi devo arrangiare da solo però insomma non lo so non mi sembra veramente paradossale e ringrazio tantissimo Francesco come sempre quando vuoi sei il più che benvenuto oltre per il contenuto che facciamo anche proprio perché ci aiuti proprio a chiarirci le idee Davide come sempre impeccabile tutto il lavoro che ha fatto sul report di Allianz andatevi a vedere cioè se non seguite Davide non vi voglio bene Davide assolutamente va seguito sempre perché quello quando apre bocca l'apre perché ha studiato a differenza appunto di qualcun altro e niente e non so esattamente quando manderemo in onda questa intervista registrata quindi non so se augurarvi buon weekend buon inizio settimana o quel che l'è comunque buon tutto quello che vi avete davanti in questi giorni grazie mille a tutti Ciao, 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 ciao. Ciao. Ciao.